Bastava guardare i partecipanti all'Augustar Gandino per rendersi conto della piena soddisfazione per aver trascorso una bella Domenica Gandino passeggiando tra natura, arte, musica e buona cucina. Sta andando molto bene, un po' faticosa la salita dopo il primo rinfresco diciamo, ma siamo arrivati qua bene. Benissimo, sto trovando bene, va bene per tutta la famiglia. Devo dire che sta andando molto bene, questa è una città davvero bellissima e complimenti a chi l'ha organizzata. Abbastanza bene. A parte le critiche dei colleghi? No, non le critiche, le salite. La camminata inogastronomica ospitata questa domenica ha superato quota 700 partecipanti che si sono ritrovati di prima mattina in pieno centro storico in attesa delle partenze frazionate in tre orari differenti. Grazie a Lorenzo Aresi, presidente della locale Proloco, a Cristina Bosis e Sonia Belotti, artefici della manifestazione, negli anni migliaia di turisti hanno potuto scoprire le tante bellezze della Val Gandino, raggiungendo località per molti sconosciute come il laghetto Corrado per gli antipasti, il convento delle suore rossoline dove è stato servito un accattivante abbinamento, il miele con la forma gella nostrana, il tutto legato ad un concorso, bandito per dare un nome, utilizzando apposite cartoline voto, al formaggio di monte proposto dai produttori del consorzio Valle Seriana di Casnigo. L'ideatore del nome prescelto riceverà un buon acquisto. Tantissima gente proveniente specialmente dalla zona della Varsa Bergamasca, ma anche da Milano, da Torino, quindi una manifestazione che si sta consolidando negli anni e tutti gli anni diventa un punto importante delle manifestazioni che si tengono qui nella Varsa Seriana. Così tra un assaggio e l'altro, all'ombra dei palazzi del Centro Storico, ma anche lungo Sentieri e Ruscelli, si portava a compimento la camminata che lungo i 9 km di tracciato ha regalato una piacevole giornata festiva. Siamo intorno al numero 700, che è un ottimo numero per noi perché così riusciamo a soddisfare le esigenze di chiunque. Nelle postazioni sentiamo che mangiano, sono contenti, bevono, arrivano abbastanza stanchi, però poi si riposano e abbiamo notato con piacere che hanno apprezzato il nuovo percorso al laghetto Corrado, quindi lungo il Ruscello, una parte molto fresca in queste giornate, veramente affose.